Conosco Guido Podestà da molti anni, più di 30, e ne ho sempre apprezzato la forte capacità di lavoro, la forte capacità di impegno, la lealtà. Sono convinto che sia l'uomo giusto per governare la nostra provincia, la provincia di Milano, dopo i cinque anni di immobilismo totale della sinistra. Con Guido la nostra provincia sarà finalmente la provincia del sì contro quella che è stata sin ad ora, il partito del no. Avremo più sicurezza, più legalità, più attenzione alla famiglia, più attenzione ai giovani, alle persone che hanno bisogno di aiuto e alle nostre tante e tantissime imprese. Abbiamo bisogno di strade più sicure e più scorrevoli e di linee metropolitane che si estendano in tutta la nostra provincia. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza e di bonificare dall'amianto i licei e gli istituti tecnici per salvaguardare la salute dei nostri ragazzi. Per queste ragioni vi chiedo di sostenere Guido Podestà. Sono sicuro che nei prossimi cinque anni saprà essere un eccellente presidente della provincia di Milano. Allora, sabato 6 e domenica 7 giugno, anche per la provincia di Milano, sulla scheda gialla, sbarra il nome di Guido Podestà e il simbolo del popolo della libertà. Scegli di stare con gli uomini di buon senso e di buona volontà, gli uomini che amano la libertà e la verità e non con chi fa la politica come un mestiere, l'unico che sa fare è demanato di invidia personale e di odio politico.